Siamo Roxy Rosa, l'altra vecchia, Border, Border, questa è proprio decrepita. Allora, cerchiamo di capire quindi cosa fare, cosa fare con i narcisisti, cosa fare, qual è la cosa che ferisce di più il narcisista. Allora, per capire cosa ferisce di più il narcisista, quello che dobbiamo fare è sviluppare, diciamo, la capacità di comprendere la mente del narcisista e tenere presente un meccanismo proiettivo molto importante che praticamente dice che quello che il narcisista fa, il narcisista teme. E questo ce lo dice anche un detto, chi di spada colpisce, di spada perisce. Quindi la stessa cosa, la stessa cosa che, diciamo, il narcisista in qualche modo patisce, diciamo, è la cosa che in qualche modo si vive fondamentalmente, no? Perché quello che, tra virgolette, gli fa male è quello che, salutiamo anche la nostra Roxy, e quindi questo è un punto fondamentale, chi di spada ferisce, di spada perisce. Quindi la stessa cosa, salutiamo anche Emiliano, benvenuto, la stessa cosa che il narcisista patisce è la stessa cosa che ti applica. Quindi la prima cosa che devi fare è praticamente formare una nuova personalità, cioè usare un tipo di manipolazione che contro i narcisisti è molto efficace. E qual è questa manipolazione, diciamo così, anti-narcisisti? Salutiamo la Carampa Gnocca, Patrizia Perotti, salutiamo Ela, salutiamo Dak, Tra l'altro, scusate, mi devo chiavare Ela perché ha, diciamo, è una abbonata al canale, quindi chi si abbona al canale, come Ela, me la chiavo, diciamo, le do la chiave, e quindi abbonatevi al canale, così sarete chiavati, cioè avrete la chiave, potete dare un sostegno al canale. Allora, quindi una forma di manipolazione che potete utilizzare con i narcisisti è quella di creargli una nuova identità. Questo avviene tipicamente, diciamo, attraverso i processi di controllo mentale, no? Quindi proviamo a ridefinire il narcisista, diamogli delle definizioni, perché chi dà delle definizioni, chi dà dei giudizi, seduce, chi dà definizioni, chi dà giudizi, coinvolge. E questo è un punto molto importante, è un punto fondamentale. Ad esempio, cosa possiamo fare? Scegliamo delle tattiche subdole, quando abbiamo a che fare con un narcisista. Creiamogli una guerra mentale. E questo è un punto fondamentale. Diamo delle definizioni. Tu sei stupido, tu sei un cretino, tu non capisci niente. Etichettatelo, etichettatelo. Il narcisista ha definizioni secche di questo genere, patisce molto, entra... Sì, ci vuole un intero vocabolario, ma devi definirlo direttamente a lui. Eh, ma no, ma tu queste cose qua le dici perché non capisci niente. Usate sempre i quantificatori universali con i narcisisti. Sempre, mai, che sono cose che non esistono. Proprio perché non esistono dovete usarli con i narcisisti. Cioè, utilizzate tutte quelle frasi, parole, che in realtà apparentemente non si dovrebbero usare, ma sono manipolative. Questo è un punto fondamentale. Inducili a pensare che non hanno possibilità, che sono sfortunate. Ecco, un'altra cosa che il narcisista teme è l'ipocondria. Il narcisista teme, diciamo, la malattia. E quindi, voi ricalcate, no, questa cosa. Ditegli, ma certo che, insomma, hai una brutta cera oggi. Non è che sei ammalato, ti sei mica fatto un attack, perché, secondo me, insomma, hai una faccia che... Ecco, se dite questo, il narcisista ci patirà tantissimo, perché teme tantissimo la malattia, fondamentalmente. La patisce da matti. E quindi questo, proprio perché, come dire, non accetta, no? Quello che patisce di più, ovviamente, è anche la paura di morire, no? Quindi, una malattia alla quale non potrà sfuggire. Il narcisista teme anche la vecchiaia, no? Quindi, fateli notare. Salutiamo a Rosi. Fateli notare tutte le rughe in più che ha. E' molto importante perché, se gli fate notare tutte le rughe, se gli fate notare tutto quello che ha, in questo modo riuscirete a, diciamo, a metterlo K.O. fondamentalmente. Ovviamente, il narcisista è anche diffidente di se stesso, cioè, non è che ha una grande fiducia in se stesso, fondamentalmente. Esatto, non vorresti nei tuoi panni, sei invecchiato ultimamente, ti vedo pallido, cioè... Quindi, questo è un punto fondamentale. Salutiamo Fiammella. Quindi, nel frattempo, fate una donazione al canale. Se volete, mettete un like, che non costa niente, e abbonatevi al canale. Quindi, praticamente, sono tutte cose che vi conviene utilizzare quando avete a che fare con queste persone. Perché lo feriscono pesantemente, lo feriscono pesantemente. Quindi, utilizzate... cercate di stimolare le sue insicurezze. Il narcisista, di fatto, odia se stesso, no? Quindi, come dire, il senso di colpa, salutiamo Roberta, il senso di colpa, il narcisista, ce l'ha espresso da se stesso, verso se stesso. Quindi, una cosa che gli fa molto male, che lo ferisce molto, è dirgli delle frasi del tipo, è certo che questa scelta che hai fatto ti porterà in rovina, ti farà andare in rovina. È certo che se continui a mangiare in questo modo ti verrà una malattia, ti verrà l'infarto, ti verrà questo, ti verrà quello. Perché? In modo tale che lui... perché lui non gliene frega un cazzo di colpevolizzare gli altri. Cioè, non gli frega niente che col suo comportamento sta male qualcun altro, no? Perché non avendo empatia, non è che puoi dirgli, guarda che col tuo comportamento fai stare male Tizio, fai stare male Caio. Perché non gliene frega un cazzo? Cioè, anzi, diciamo che probabilmente è pure contento se fa stare male Tizio e Caio. Ma anche se Tizio e Caio fossero suo padre, sua madre, no? Un narcisista poi non gli frega una beata minchia, suo figlio, eccetera, eccetera. L'importante è che non stia male lui, che non gli venga un coccolone a lui. Quindi il senso di colpa non è che il narcisista non lo vive. Il narcisista vive il senso di colpa espresso da se stesso verso se stesso. E questo è quindi... è quello che deve amplificare. Perché sono tutte le cose che gli danno veramente fastidio. lo mandano fuori forma, fuori fase, resta sfasato. Ovviamente, come dire, devi calibrarti proprio su quella persona. E devi rafforzare il suo nuovo sé. Cosa vuol dire rafforzare il suo nuovo sé? Devi, una volta che gli hai messo un'etichetta, rafforzala. È molto importante, no? Ad esempio, rafforzi, incoraggia questa nuova etichetta che tu gli hai messo, no? Di insicuro, di malato. Diti delle frasi del tipo, ma non ti preoccupare, se dovrei fare la chemioterapia ti accompagno io. Tu diteli delle frasi del genere. Certo che è una brutta cera, porca misera. Anche un mio amico ce l'aveva. Gli hanno diagnosticato un tumore. Poi, vabbè, io ho cercato di aiutarlo. Salutiamo anche Pink. Esatto, sei così sciuppato, hai fatto un'attacca, hai controllato. Perché il narcisista la paura della malattia ce l'ha. La paura della malattia è anche la paura della malattia mentale, soprattutto. Anche la paura della malattia mentale, perché il narcisista di fatto ha una depressione, fondamentalmente. E teme la malattia fisica, la malattia mentale e la morte. Quindi, voi date di gratificazione. Ditegli, è certo che è una brutta cera. Guarda, non ti preoccupare, però, anche se avessi un cancro, guarda, io ti accompagnerò a fare la chemioterapia. Ti accompagnerò io, non ti preoccuparti. Se poi muori, diciamo, non ti preoccupare che al funerale ci penso io. Guarda, io a te ci tengo, ti farò fare la tomba più bella, avrai la tomba più bella del cimitero, avrai la tomba più bella del cimitero. Non ti preoccupare, perché ti darò, ti farò, tu sei una persona che da vivo eri un pezzo di merda, un coglione, ma da morto dovremmo gratificarti. E quindi, non ti preoccupare, non ti preoccupare che ti farò avere proprio una bella tomba. Anzi, guarda, se facciamo un salto al cimitero, mi dici in che area vorresti andare, che ti darò, ti farò, cercherò la possibilità, sarò delle conoscenze. Quindi, il narcisista teme molto le malattie, fondamentalmente, teme molto le, anche la malattia mentale, no? No, diteli, ma non è che è malattia mentale, l'Alzheimer, non è che stai perdendo dei colpi. Sai, ho sentito che c'è anche l'Alzheimer precoce, sei giovane, perché ti stai dimenticando un po' troppe cose. Ma no, noi non dobbiamo augurare niente. Noi non dobbiamo augurare niente. Non è che si augura. No, 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 non avete capito niente. Non si augura. No, stiamo dicendo che si augura. Noi stiamo dicendo che lo aiutiamo. Voi dovete farlo con spirito di sacrificio. Dire semplicemente, se ti verrà questo, se ti verrà quello, non ti preoccupare che ci sono io. Se ti verrà un cancro, ti accompagno io a fare la chemioterapia. Se ti verrà questo, ti aiuterò io. Non è che si augura niente. Anzi, l'ICD deve dire al contrario, perché tanto noi esseri umani siamo autoreferenziali, no? Cioè, il narcisista ci pensa già da solo ad essere ipocondriaco. Si tratta solo di fare leva su questa sua caratteristica per, tra virgolette, mandarlo fuori fase fondamentalmente, no? Questo è un punto fondamentale. Ma l'obiettivo è proprio quello di farlo soffrire perché, diciamo, si deve levare dei coglioni. Perché quando il narcisista, non lo fa logicamente, ma quando capisce che, diciamo, patisce, praticamente è questo, è come la, diciamo, è come la, cosa possiamo dire? È come la kriptonite per Superman. Poi ognuno può fare quello che vuole, ma non è tanto di generare. Si tratta di tirargli fuori quello che ha già dentro, perché questo tenetevelo presente. Voi non potete generare un cazzo a nessuno. Cioè, l'essere umano, voi non è che potete generare qualcosa a qualcuno. Fate semplicemente, le cose sono già dentro. Non è che noi, se uno non ha paura della morte, Ma tu puoi parlargli della morte dal mattino alla sera, che non gli genera assolutamente niente. Puoi parlare di incidenti, di morti, di persone giovani che gli è venuto l'infarto, ma quello non gli rifega niente. Anzi, cioè, se la vive tranquillamente, i buddhisti se la vanno a cercare. Quindi, questo dovete tenerlo presente. Voi non potete generare paure a nessuno, perché le paure fanno parte della parte intrinsica. Tu non puoi generare paure a nessuno. Vabbè, tu fai che cazzo vuoi, ognuno fa quello che vuole. L'obiettivo è quello di levartelo dei coglioni, questo è un modo per levartelo dei coglioni. D'altra parte, cioè, non è che, poi, ognuno faccia che cazzo vuole, diciamo, no? Non è che, fate che cazzo volete. Volete andare a fare in culo, andate a fare in culo e finisce lì. Quindi, non è che uno deve fare qualcosa. Se siete coglioni, siete coglioni. Cioè, non è che uno, io esprimo la mia opinione, poi ognuno fa che minchia vuole. Volete fare? Lo fate. Non volete fare? Non lo fate. Fate che cazzo vuole, no? Siete in grado di intendere di volere. Non è che se non siete in grado di intendere di volere. Io sto dicendo, semplicemente, che il narcisista è come dargli una scossa elettrica. Se voi gli date una scossa elettrica, ve lo togliete dalla minchia. Perché? Dice, no, i narcisisti sono appiccicosi. Sono appiccicosi come le merde, sono appiccicosi come le patelle sullo scoglio. E quindi si appiccicano. L'unico modo, uno dei modi, cioè, poi ce ne saranno anche altri, che non so, uno dei modi per levartelo dai coglioni, uno dei modi per levartelo dai coglioni, è quello, è quello di, diciamo, di amplificare quelle paure, quelle insicurezze che già hanno dentro. Perché il narcisista, poi, in realtà, se tu gli fai questo, si allontanerà, allontanerà, cioè, diventerà come un pulcino bagnato, no? Quindi tenderà ad allontanarsi, non sarà più in grado di gestire la cosa. Altrimenti, vuoi andare dritto al macello, fatti massacrare, fai che cazzo vuoi. Però, non è che si tratta di una roba vendicativa o di qualcosa del genere, si tratta di levarci dai coglioni, una volta che hai capito che hai a che fare con una persona manipolativa, si tratta di levartelo dai coglioni, di evitare che diventi appiccicoso. Quindi questo è una, è una, diciamo, non si tratta di diventare una brutta persona o bella persona, si tratta di toglierti dai coglioni. Come, non so come posso dirlo. Cioè, se tu, vabbè, se tu hai una vespa, una zanzara che ti dà fastidio, magari non gli spruzzi la prima volta il, come si chiama, l'insetticida. Però, poi, se continui a romperti i coglioni, li spruzzerai l'insetticida. Oppure, se te lo vuoi tenere, tientelo, fai come cazzo vuoi. Il problema è che il narcisista non si stacca, non si stacca. È come una sanguisuga, no? Se c'hai una sanguisuga appiccicata, non lo so, gli darai qualche cosa, gli butterai l'acido, l'aceto, non lo so io che cosa usi fondamentalmente. Se c'è una zecca attaccata, ecco, il narcisista è come una zecca, no? Se c'è una zecca attaccata al braccio, mi sembra che la zecca attaccata al braccio gli devi mettere l'aceto, gli devi mettere qualcosa. E il narcisista è uguale, è come una zecca che ti si è appiccicata. Quindi ci devi mettere, in questo caso, amplificargli queste paure. Perché queste sono le paure che il narcisista ha. Tutti i narcisisti temono follemente la morte, perché il meccanismo di difesa è un meccanismo dove non riescono a superarlo, no? Quindi patiscono tantissimo, no, queste cose. Ovvio che non è che tu le crei. Salutiamo Crezi Robi. Ovvio che tu non li crei assolutamente niente. Però, però, diciamo, però questo è il punto, è il punto fondamentale. Questo è il punto fondamentale. Io credo che quello sia la cosa fondamentale. Cioè, levartelo dai coglioni. Perché questo è l'obiettivo, no? Ovviamente, come dire, non è che tu trai in inganno qualcuno. Fai semplicemente delle affermazioni. Ovviamente devi tenere presente anche che, come dire, il narcisista patisce, da un certo punto di vista, il dolore. Patisce, da un certo punto di vista, il dolore. E quindi il dolore è qualcosa che lo influenza. E quindi devi usare il dolore. La leva del dolore, d'altra parte, è, come possiamo dire, fortemente ipnotica, fondamentalmente, no? La leva del dolore è fortemente ipnotica. Quindi noi possiamo utilizzare, in questo caso, il dolore mentale, no? Il dolore mentale lo tiene lontano. È un po' come la criptonite per Superman. Se tu gli generi dolore, il dolore è fortemente ipnotico. Beh, pensate, le torture si basano sul dolore, fondamentalmente. Generi dolore per fargli ottenere, far ottenere delle cose. Quindi questo è un punto che, direi, è abbastanza importante, no? È molto importante, comunque, ovviamente, per prima cosa, non coinvolgerti. Perché, però, diciamo, usare queste strategie di amplificazione è una cosa fondamentale. Perché? Ma noi non generiamo dolore. Il problema è che noi non generiamo dolore. È un esempio. Non è che gli diamo la scossa elettrica. Noi parliamo, usiamo la comunicazione. Ognuno faccia che cazzo vuole, poi. Noi usiamo... Ma non sporchi il karma, non si sporca. Il karma non è qualcosa che si pulisce, non è il destino il karma. Il karma è che noi, a livello karmico, dobbiamo difendere noi stessi. Questo è un punto fondamentale. A livello karmico noi dobbiamo imparare a difendere noi stessi. Perché se a livello karmico non impariamo a difendere noi stessi è quasi come facessimo un suicidio. Quindi non è che il karma... Non è che il karma non si, diciamo... E tra l'altro questa cosa sul karma è interessante. I suicidi, ad esempio, da un punto di vista del buddismo, vengono... Da un punto di vista del buddismo, i suicidi, si generano un karma estremamente negativo. Perché generano sofferenza a se stessi. Questo è un punto fondamentale. È un punto fondamentale, no? Noi dobbiamo in prima istanza difendere noi stessi. Se noi riusciamo a difendere noi stessi, il karma negativo ce lo mettiamo su noi stessi. Quindi io non sto facendo semplicemente niente. Sto usando, diciamo, delle strategie per tenere lontano. Per far sì che questa... Che questa zecca, diciamo, non mi si appiccichi addosso. È ovvio che, d'altra parte, come dire... Certo, un errore l'avremmo commesso anche noi. Perché in qualche modo ci saremmo anche coinvolti con il narcisista. Ma una volta che abbiamo capito, questo è anche un modo per decoinvolgerci. Perché qual è l'unico vero modo per decoinvolgerti dal narcisista? L'unico vero modo per decoinvolgerti dal narcisista è vedere le sue fragilità. Se tu pensi che il narcisista sia una divinità, se tu pensi che il narcisista sia la quintessenza, sia Giove Pluvio, diciamo, no? Sia una quintessenza della divinità, tu ti ci aggrappi al narcisista. E invece smascherarlo, cioè evidenziare quelle che sono le sue fragilità, evidenziare quelli che sono i suoi punti deboli, amplificare quelli che sono i suoi turbamenti, ti darà un, diciamo, ti darà un vantaggio importante che lui si allontanerà. Perché altrimenti ce l'avrai addosso come una zecca. Ce l'avrai addosso completamente come una zecca. E quindi questa è una delle modalità. D'altra parte, poi ognuno, non è che stiamo facendo c'è la racchia che gracchia? Ma cos'è la racchia che gracchia? Dà fastidio? Sentite gracchiare? Sentite gracchiare? Rispondete veloci, sentite gracchiare? Leggermente? Vediamo un po'. Vediamo un po'. Così è meglio? Ditemi se adesso è meglio. Ditemi se adesso è meglio. Adesso è meglio. Ho tolto una cosa. Ditemi se adesso è meglio. Rapidi, rapidi. Adesso è meglio? Ah, ok. Uguale. Vabbè, sentite. Non è meglio, è peggio? Meglio, peggio, non meglio. Mettetevi d'accordo! Carampane che non siete altro! Vecchie befani! Allora, quindi. Dobbiamo. Quindi. Me ne sbatti i coglioni. Com'è? Data affanculo. Comunque, allora, la cosa importante che dobbiamo imparare a fare è quindi quella di non mettere mai in discussione se stessi, no? Se noi dobbiamo vivere uno stato, se noi dobbiamo vivere uno stato confusionale, la confusione, dobbiamo generarla al narcisista. Perché, altrimenti, se noi diamo corda al narcisista, vivremo uno stato confusionale, quindi siete voi che dovete generare confusione a lui. Perché il narcisista, che vuole avere tutto sotto controllo, quando, che lui vuole avere tutto sotto controllo, voi dovete, quando voi avete, cioè, quando lui vuole avere tutto sotto controllo, se non riesce ad avere tutto sotto controllo, va in paranoia, va in panico. E quindi, mandateli in stato confusionale, diteli delle cose, fatene delle altre, raccontateli una cosa e poi, la volta dopo, raccontateli un'altra. Ma anche senza un motivo particolare. Dovete cercare di, in qualche modo, di mandarli in tilt. Non deve essere prevedibile, no? Perché lui deve essere in preda alle manipolazioni. Lui non deve sapere cosa aspettarsi. Non viceversa. Eh, sì. Noi non... Quando tu sei confusa, entri in uno stato negativo. Non dovete mai entrare in uno stato negativo. Non dovete mai lasciarvi confondere. Non dovete mai farvi mettere in discussione dal narcisista. Non dovete mai, e poi mai, farvi mettere in discussione dal narcisista. Perché se tu ti fai mettere in discussione, soprattutto se fai mettere in discussione te stessa, perché se uno mi dice, ah, Massimo, sai che hai fatto questa cosa, secondo me potrei fare quell'altra. Io lo sto anche a sentire. Ma se uno mi dice, ah, Massimo, sai che sei difettoso, io ti dico, difettoso sarai te e difettosini i tuoi bambini. Eh, cioè, gli dirò, difettoso sarai tu e difettosini i tuoi bambini. Quindi, soltiamo Roxy, non dovete assolutamente prendere in considerazione il fatto che, diciamo, non dovete assolutamente prendere in considerazione il fatto di sentirvi negativi, sentirvi insicuri. Questo è un punto fondamentale. Essere manipolati può, come dire, rovinarci. Quindi, talvolta è meglio manipolare che essere manipolati, no? C'era quel libro, no, degli anni settanta. O si domina o si è dominati. E con il narcisista, questo titolo, si accalca. O si domina o si è dominati. Non c'è altro verso. Il narcisista, il narcisista reagisce in questo modo. O si domina o si è dominati. Quindi voi, per uscire dalla relazione, dovete dominare. Non dovete essere dominati. Certo che poi, se tu sei un Buddha e manco l'opinio in considerazione, è buon per te. Però, qui si parla di persone che sono finite magne e piedi dentro una storia. E quindi devono uscire. È ovvio che uno dice, non si deve stare in una relazione tossica. Ma questo è il consiglio, diciamo, che non serve un cazzo, no? È come dire, una persona, tu non devi amare una persona. Ma per non amarlo, devi vedere la realtà per quello che è. E questo che ti sto dicendo io, ti consentirà di vedere la realtà. Perché ti consentirà di vedere le fragilità del narcisista. Ti considerà di vedere che il narcisista è ansioso, è ipervigilante, è maniacale, è ipocondriaco. Teme la malattia, teme la morte, c'ha mille paure dentro di sé. E allora, ma se tu non le vedi queste paure, penserai che il Dio Apollo, no? Apollo, figlio di Apelle, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci, venere galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da Apelle, figlio di Apollo. Apelle, figlio di Apollo, fece una palla di pelle di pollo. Cioè, vi ricordate, erano bambini social di lingua. Quindi, magari pensi che sia il Dio Apollo, fondamentalmente, il Dio Sole, no? Invece è soltanto un poveraccio, un disgraziato. E quindi, ma per vederlo, devi amplificare le cose che ha già dentro. Perché se tu non le amplifichi, se tu non le amplifichi, come dire, o si domina o si è dominati. Con il narcisista non ci può essere una relazione interattiva. Perché noi non possiamo mettere in atto le relazioni, non possiamo mettere in atto, diciamo, delle relazioni. Ma poi, se uno dice il faro guida e il benessere, ma che cazzo vuol dire? Non vuol dire un cazzo, ma questo lo dico io per primo. Cioè, è inutile che mi copiate, che dite se stai male non amore. Ma io sono dieci anni, cent'anni, che dico se soffri non è amore. È il mio light motive. Ma detto questo, ci sono molte persone che soffrono e ci stanno dentro perché non hanno capito che hanno davanti. Pensano di avere davanti la divinità Apollo, invece hanno un coglione. Questo è un punto fondamentale. Quindi è un coglione. Quindi serve, ma non basta. È come la stessa cosa, ragazzi. Quanti fumano? C'è scritto sui pacchetti di sigarette. C'è scritto sui pacchetti di sigarette non fumare che ti viene il cancro. Eppure le persone fumano lo stesso. Le persone fumano lo stesso. Quando invece gli fanno la diagnosi e gli portano, e gli portano, e gli dicono la diagnosi, c'è il cancro ai polmoni. Vedi che quelli smettono. Però, per fare smettere quello che fuma, senza far rivenire, bisognerebbe che smettesse prima che rivenisse il cancro ai polmoni, fondamentalmente. Questo è un punto fondamentale, no? Il concetto di fondo è che, diciamo, noi dobbiamo... Sì, se soffrono ne amore, ma quante di voi, vecchie carampane, vecchie malgascione, stanno in relazioni soffrendo? Quanti? E ditelo, no? Perché se soffrono ne amore, lo capiscono chiunque, ma io ti sto dando le chiavi. Ti sto dando la chiave per uscire. E il modo per uscire da questa relazione è quello di vedere chi è davanti. Perché altrimenti... Altrimenti... Certo, l'unica soluzione è scappare. Ma per scappare, devi vedere chi hai davanti. Devi vedere chi hai davanti. Altrimenti, se non percepisci la cosa, è come leggere sul pacchetto di sigarette, è come leggere sul pacchetto di sigarette, guarda che fumare ti fa venire il cancro. Quante di voi fumano? Quante di voi fumano? E nonostante abbiano letto su quel cazzo di pacchetto di sigarette, se fumi ti fa venire il cancro, eppure fumate lo stesso. Però, se un giorno vi chiama il medico e vi dice, guarda che c'è una macchiolina lì nei polmoni, facciamo un po' due accertamenti, magari poi non c'è niente. Però, quando inizia a cagarti sotto, che dice la macchiolina, ma lei ha fumato? Eh, 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 guarda che c'è la macchiolina lì nei sotto. E allora vedrai che quando ti viene la cagotto, allora magari smetterai di fumare, no? Perché associerai il fatto che quando ci scrivono viene il cancro, se fumi il cancro può venire anche a te. Non è che viene al tuo vicino di casa e tu sei immune e puoi fumare tutto il cazzo di sigarette che vuoi. Quindi, questo è un punto molto importante, no? Quindi, quando tu vedi il narcisista per quello che è, e allora riuscirai a difenderti. Perché se non lo vedi non riesci a difenderti. Se pensi che sia Dio Apollo, che sia l'Elohim, che sia Dio sceso in terra, tu resterai succube. Quindi, sviluppare queste cose, sviluppare queste cose, ti darà la possibilità di eliminarlo, di allontanarlo dalla tua vita. Perché vedrai le sue fragilità, vedrai quanto è mischino, vedrai quanto è pauroso, vedrai quanto è insicuro, vedrai quanto vale poco. Vedrai quanto non ha pelo sullo stomaco, vedrai quanto ha poca resilienza. E così riesci a toglierlo dai coglioni. Perché il nostro obiettivo, certo che è quello del braccio dei coglioni. Se uno riesce a toglierlo dai coglioni dicendo semplicemente, levati dai coglioni, non bisogna far trattare male da nessuno. Ma questo è l'uovo di colombo, no? Uno mi dice, l'uovo di colombo, non bisogna mai far strattare male da nessuno. Va bene, lo dico io per primo. Ma poi, operativamente, come cazzo fai? Perché, cioè, qua dobbiamo tenere presente che c'è gente che va a comprare... Certo, sono dei coglioni, ma vanno a comprare i numeri vincenti dell'otto, no? Credono a quello lì che gli dice, gioca i numeri, che vedrai che vinci. Ma vedrai che vinci sto cazzo. E quindi, cioè, bisogna fare, agire. E quelle chiavi che ti sto dicendo sono chiavi fondamentali per mandare in crisi il narcisista. Sono chiavi fondamentali per impaurire il narcisista. Sono chiavi fondamentali, sono chiavi fondamentali per, diciamo, sono chiavi fondamentali per distruggere il narcisista. Perché il narcisista, se non lo distruggi, distruggi te. Beh, questo è il concetto di fondamentali. Non distruggerlo fisicamente, distruggerlo emotivamente. Renderlo insicuro, in modo tale che tu, per lui, devi rappresentare una scossa elettrica. Devi rappresentare un filo scoperto, no? Avete presente i fili elettrici, quelli scoperti, no? Che se li tocchi, ti dà una scintilla. Quello deve diventare per il narcisista. Ma questo è un altro tema. Molte persone si fanno, ma certo, ma che vuol dire? Ma stiamo parlando di altre cose. Ognuno scrive, scrivete a cazzo. Se scrivete a cazzo, scrivete a cazzo. Però, come dire, uno parla di mele, l'altro gli risponde, eh sì, ma le pere sono buone. Ma se stiamo parlando di mele, non stiamo parlando di pere. Comunque, il concetto è quello fondamentalmente. Noi non dobbiamo, dobbiamo distruggere emotivamente il narcisista. Dobbiamo rovinare emotivamente il narcisista. Dobbiamo dargli la scossa. In modo tale che lui capisca che ha sbagliato strada. Che deve levarsi dei coglioni. E quindi questo, tra l'altro, ci darà la forza per capire che abbiamo veramente davanti. E ci darà la forza per levarci dai coglioni. Ci darà la forza per levarci dai coglioni. Perché noi dobbiamo avere questa forza di levarci dai coglioni. Altrimenti ce l'avremo sul groppone. E quando ce l'avrai sul groppone, te lo tieni poi. E purtroppo il concetto è quello. Che se ce l'hai sul groppone, ce l'hai nel culo, fondamentalmente. Ringraziamo Border. Ringraziamo Border. Quindi è meglio metterlo. Vuoi essere un mettingulo o un prendinculo? Perché diciamo che con il narcisista non ci sono terzium non datur. Terzium non datur. Con il narcisista o sei un prendinculo o sei un mettingulo. E quindi è meglio essere un mettingulo che un prendinculo. Perché se sei un prendinculo te lo prendi. Perlomeno se sei un mettingulo lo metti. E che è diverso, no? Meglio essere un mettingulo che un prendinculo. E quindi noi dobbiamo, diciamo, sviluppare... Noi dobbiamo sviluppare un po' queste caratteristiche fondamentalmente. Dobbiamo imparare a sviluppare questo potere. Dobbiamo imparare a sviluppare questa forza. Cioè, altrimenti ne pagheremo le conseguenze. E poi ognuno ci sentiremo in colpa, avremo vergogna. Perché il narcisista è bravo a farti sentire in colpa. È bravo a farti vivere una vergogna. È bravo sì. Quindi dobbiamo utilizzare queste situazioni. Questo è un punto fondamentale. Questo è un punto importante. Dobbiamo allontanarci. Ma per allontanarci dobbiamo vedere. Dobbiamo vedere. Queste cose sono molto importanti. Altrimenti ne pagheremo le conseguenze. Ne pagheremo assolutamente le conseguenze. E queste conseguenze saranno deleterie per noi. Bene, detto questo, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. Vi ricordo...